Qualcun attimo della prova? Dove consigliere politica? Allora, se il consigliere fa il termo 50-30 euro, chiediamo a vedere la dirigente e la l'unità in qualche modo. Sono permito del Sittà Rosario, bellissimo, chiaramente bellissimo. Allora, io in asunto Io vorrei rispondere a tutti i giorni di vita, io anticipo il mio voto favorevole è quello degli udici che io oggi ho presento, voto favorevole alla proposta di regamento presentata da un'idea che va assolutamente nell'interesse di questa città. Vorremmo semplicemente aggiungere una ola di colore alla discussione sull'edito e il finanzo. Purtroppo in questa città, così che ho appena fatto una bella genitore città, parlare al sottotopio sui genitori, grazie, mi ringrazio, si deve essere chiarissimo. Allora, dicevo, come se in questa città le regole non si spettano. Noi abbiamo chiesto già a gran voce prima dell'approvazione del bilancio che questa indistrazione portasse così come un atto principale il reticonto del 2015. E se ho anche le motivazioni per cui mi chiedevamo, tra l'edito di ITER e poi altri, quello che è visto, dalle regge. E' vero è che per l'edito di tutto lo sapete, ma non mi entro il sottotopio. Dovevamo approvare questo peredito e di tutto. So che in questo momento avrò la città, però, questo dovrebbe essere un'idea dei prossimi bilanci e di tutti ad approvare, io vi amo che vi poteranno approvare anche il fatto dei cinque bilanci. Allora, la necessità di avere il reticonto e la necessità di dare anche un giudizio politico e amministrativo su quello che poi è fatto durante gli Stati. Noi, secondo quello che c'è stato più molto e più che non c'è capito, questo è il primo punto che faccia essere pronto prima dell'approvazione del bilancio. Non ci abbiamo notizia. Spiego anche perché questo è di conto importante, oltre che queste le azioni sopravvenzionali, le azioni che oggi vogliono utilizzare, veramente, la visione dei soldi che erano stati, dei gremi conclusi, quello che noi facciamo solitamente nelle nostre carte, a fine anno, quindi ci vediamo davanti, diciamo, quante abbiamo speso, quante abbiamo rinversato, quanti soldi non siamo spesi dell'anno rosso, e invece questo confunde di parli di a me. Prima vediamo quello che dobbiamo spesare, è la benedità di quello che abbiamo preso. Poi mi chiamiamo quello che ci siamo organizzati. Non ci chiede perché abbiamo più per il mondo. Questa è lì perché si propone questa ultima segnala di interazione. Dissevo, uno dei politici principali, che richiede la valutazione, che ricordo di ricordo e di aES la possibilità di utilizzare una vostra qualificata per le cittadini e come le cittadini. Che cosa sono questi dei cittadini? I cittadini sono quei nomi che noi non abbiamo spesso, voi per qualche motivo, voi per altri, voi per altre condizioni che non abbiamo spesso. I cittadini invece sono quelle cose che noi dobbiamo ancora dare, in cui parlo di un minaccio, del tempo, di un minaccio, del tempo, di un'altra realtà, che ancora non abbiamo eragito. Allora, quanto vengono a mancare, ovviamente questo accertamento di decidi attivi e di decidi partiti, che è fatto nel momento tutto. Poi oggi, parlando anche dei risultati, e questa ricordazione l'abbiamo, un sacco di decidi a dire come gente spagno, si torna ai 180 milioni di euro, a quella informazione che mi sono arrivati da io. Questi sono dei risultati drogati, perché sono delle risultate che noi non possiamo mai apercebire. Io ricordo, ci dà anche la cifra di quelli che sono stati, di tutti, che stessero usciti a recuperare. E, solitamente, questa cifra di decidi attività sono da 23%. Poi, a sua mente, poco siamo nel discorso di un bilancio, non sapendo quanti candidati hanno un posto di buona tre maggiore reale. Questo che è stato fatto, come le incontri le vite, non interessa questa cifra di decidi attività di decidi attività, potrebbe essere una cifra di decidi attività. Una cifra di decidi attività che è benvenuta e che è ben ottimizzata per appuntamenti e per pianzi attività. Quindi, manca una cifra di risposta di decidi attività. Quindi, manca una cifra di decidi attività che è benvenuta a votare contro questo titolo di decidi attività. Anche perché, manca una cifra di decidi attività è il motivo che qui non abbiamo pagato altre, non pagare una somma, significa dover pensare e gli interessi ai sottili, pensate a quello che il futuro è già lì, è un dato irradiale che viene fatto, che viene fatto in carriere sull'ente, e non è possibile, in realtà oggi noi dobbiamo trovare a chiedere di portare il Consiglio con un altro signore di conto. Va bene, ovviamente questa amministrazione ho altre idee su come si presentano i bilanci, e dico una verità che dovrebbe fare il Consiglio con un'Ali, di come ha visto questa amministrazione. Il stesso e l'unico imprenditore è il re con una domanda in questo assente, e i profani è un decreto che prevede una delle risparmi, dato che è uguale a capito delle pubblicate amministrazioni. Una delle norme che prevede questo decreto, questo spedito era la diffusione dei mezzi e il Consiglio di amministrazione delle partecipate, a caso che ci capiamo una, ed è la ragazza di ambienti che si ha. Il sindaco ci fa un fatto che non potrebbe mantenere i tre comunità, i tre consiglieri attualmente presenti nella ragazza di ambienti che si ha, tutto di spartizioni politiche, e di un altro che abbiamo in presente, che non ha nemmeno presentato la chiedita per far parte del Consiglio di amministrazione. di amministrazione. Non ha nemmeno presentato, di meno validezza. Allora, io ho detto, invece che riguarda questo decreto che dovrebbe essere sparo, che fa? Sia spresa, ma con il Consiglio di amministrazione delle quali non potrebbe cambiare. questo decreto che sia accettabile, no? Va bene. Ma faccio più rapidamente, perché magari si potrebbe spedare qualcuno. Dice che il motivo, il sindaco si apprezzo a prorogare questo organo amministrativo fino a fine sul senso di un attacco, per fare il mantenere dei politici politici che sono trappallati. Ma si può andare avanti così. Io non credo che sia similoso, non credo che sia utile per questa città. Il decreto deve essere, ma, un solo tempo, e poi, per esempio, in questo Consiglio di amministrazione due, devono essere dipendenti o male che scelgono fare il momento da percepita per l'Occidente, ovvero la Consiglia di amministrazione. Bisogna rispettare gli amministrativi. Altrimenti, noi non possiamo fare quella che vuoi spedificare la condizione costruttiva. Noi chiediamo di adeguare gli amministrativi rispettare leader dell'approvazione degli atti e soltanto attraverso il rigoroso rispetto di quei leader è possibile avere elucinazioni su quali sono le responsabilità, è possibile avere anche un riscontro politico sull'attività svolta. Quindi, per questo motivo, l'Udici poterà contro, e lo dico veramente a nome dell'Udici, poterà contro il equilibrio di più migliati di concetti di Stato. Grazie. 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 Grazie.